in onda oggi un nuovo video svuota la spesa euro spin allora iniziamo con i nostri amati grissini al sesamo poi abbiamo voluto prendere le fettine di mela queste qui che sono croccanti non ne abbiamo mai mangiate 100% di questa scelta proveremo poi abbiamo ripreso questa busta di insalata dei 5 colori del benessere la rossa, quella che ha anche la barbabietola che ci è piaciuta tanto e sempre di questa linea dei 5 colori del benessere abbiamo presa questa qui verde e c'è il latoghino verde, il spinacino baby, la rucola e il tatsoi boh non riesco a leggere sto prendendo dopo e leggi cosa c'è ok le banane abbiamo preso questa qui della linea biologica amo essere poi il dessert goloso, la crema al cioccolato per me mentre per il pitton brillo abbiamo preso questa, la crema alla vaniglia voilà poi poi la confezione di cotolette di pollo il primo sale è meglio che non faccia però le facce strane perché se no poi andiamo avanti con il salame felino IGP questi sono 80 grammi abbiamo preso, questo è per il piston brillo le fettine di bovino buone buone queste eccole qua mentre per me il roast beef all'inglese che mi piace un sacco ci metto anche l'insalata sopra con un po' di aceto balsamico olio e sale condimento per me perfetto i crostini quello da mettere nelle azzurre ora anche nelle insalate volendo la panna fresca questa è quella senza il lattosio poi ormai i nostri amati panciottini questi funghi e mozzarella questi non devono mai mancare ce ne siamo innamorati come ci siamo innamorati di questi i crostini integrali andiamo avanti con lo scottex no, così ecco no, ero uguale ok poi ho trovato questi non li avevo ancora visti negli scaffali i frullini integrali allora qui c'è scritto 100% di farina integrale però poi se vado a leggere negli ingredienti c'è scritto farina di frumento integrale 74% dove sta la verità ma poi abbiamo preso gli yogurt questi qui della Land da 125 grammi alla banana, cocco e quello bianco e una novità mai vista questa qui la pasta di pizza integrale quella già pronta lievitata è giusto giusto solo da stendere e quindi la proveremo poi questa provvedere se è buona ok dove è? oh no oh cosa c'è qua? che non si vedevano? no queste eccole si vedono? tutte e due? sì ok le tovagliette con topolino le ho viste e ho detto queste devono venire a casa il piston brillo mi dice più basso ok vabbè poi le farò a pittà allora andiamo avanti con il pomodoro camone questi non li abbiamo mai presi li mangierà quel piston brillo sono quelli di colore scuro poi diragli come sono il succo e polpa l'albicocca sono quelli da 6 brick da 200 ml la panna quella da montare quella già zuccherata ovviamente un dolcetto da fare le schiacciatine a rosmarino queste le porta il piston brillo poi al lavoro poi servivano dei contenitori di alluminio con il coperchio ok le faratine le tortilla e ovviamente l'aperitivo questa volta abbiamo preso il rosso quello biondo alla fine non è che ci piace molto quindi preferiamo questo qui rosso e per il piston brillo i suoi amati cornetti di mais poi andiamo avanti con un po' di verdura allora allora le zucchine queste qua quelle scure devo ancora capire perché da rospin non si trovano però quelle chiare però vabbè un bel radicchio trevigiano quello lungo eccolo qua andiamo avanti con le arance queste sono le arance tarocco eccole qua di nome ma non di fatto ovviamente perché sono originali comunque non sono tarocche ecco poi giusto giusto due meline ovviamente le Red Delicious che sono le nostre preferite poi le erbette queste qua un bel bustone le mozzarella così sapete che le prendiamo sempre come anche lo stracchino questa volta abbiamo voluto provare i gnocchetti agli spinaci gnocchetti tirolesi eccoli qua gli spazzle non so come si dice come si dice non lo so vabbè i gnocchetti verbi tirolesi e abbiamo ripreso questi qua i ravioli con ricotte spinaci ed erbette che ci sono piaciuti molto poi e dopo abbiamo finito questa sporta i sacchetti per la spazzatura quello dell'indifferenziata ultima sporta ma non meno importante è questa qui e qui ci sono tutti i prodotti che ho trovato in offerta e partiamo dalle bistecchine di mare queste qui non le abbiamo mai prese le assaggeremo come non abbiamo mai preso il filone a fette con la farina di segale e sempre in offerta le crostatine che cadono negli occhiali all'albicocca un bel pacchettone di tovaglioli questi sono 100 pezzi da due veli poi sono anche belli grandi da un po' che non li prendevamo erano questi i fermenti attivi ne abbiamo prese due confezioni perché anche questi erano in offerta il petto di pollo eccolo qua con la fettine i burgeroni di prosciutto cotto questi sono i preferiti di Piston Brillo e per finire i farciti eccoli qua c'è l'accento si c'ha l'accento ok ok i farciti o i farciti no, i farciti c'è l'accento c'è l'accento eccoli qua anche questi non li abbiamo mai presi e li assaggeremo bene qui c'è lo scontino il totale della spesa è 67 euro e 9 centesimi non so se si vede non si vede ve lo scriverò e basta come sempre vi ringrazio per l'attenzione ciao ciao